Che c'è? Abbassa la voce. E sto parlando piano. Che cazzo, potevi essere un po' più convinta, no? Cioè, almeno fingi, sei un'attrice. Ma che cavolo vuoi? Ho sempre votato per te, mi sembra abbastanza. Con la stanza di Giacomo. Guarda, lui non mi ne frega un cazzo dello spettacolo, no? Lui vuole solo smerdarmi davanti a tutti, te lo dico io. Ascolta, piantala, sei ossessionato da Giacomo. Ha un carattere forte, è normale che gli altri lo seguono. Ha un carattere forte? Eh sì. Vorrei vederti una volta dalla mia parte, solo una. Ma io sto dalla tua parte, però tu devi tirare fuori le palle. Devi avere più convinzione nelle idee che porti avanti. Cioè, non puoi iniziare un discorso con allora, ragazzoli. Questi non ti rispetteranno mai. Ma vaffanculo. Ma vaffanculo, tu?